ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di my mod dopo il buon successo dai del primo episodio ho deciso di continuare un attimino la serie dopo vedremo come andrà la serie in generale allora ci eravamo lasciati che avevo fatto la vasca ok anche sotto vasca adesso e e il portellone ecco noi ci eravamo lasciati qui mi pare così una cosa così più o meno forse ho fatto ancora qualche aggiunta ma niente di che oggi invece vi faccio vedere quello che ho fatto negli ultimi giorni eccolo qui ho fatto un pezzo di telaio c'è un pezzo la maggior parte del telaio se non tutto mancano vabbè tubi idraulici ma l'idraulica sarà una cosa a parte in un episodio a parte ho fatto tutto ho fatto supporti per il pistone da ribaltamento questo è un tappo per il serbatoio penso dell'olio non vorrei dire una cagata però sì dovrebbe essere dell'olio questo qua il port passa cavi questo qua grigio vi ricordo che le texture non sono non sono quelle finali diciamo non sono quelle provvisorie tra virgolette di solito ve lo faccio vedere bianco però vabbè anche se ve lo faccio vedere già più o meno colorato non è non fa differenza questo qua è pto c'è l'aggancio per la pto piedino di stazionamento il timone che ci ho messo un po a farlo ma forse ne vassa la pena perché a me piace molto piedino di stazionamento serbatoio de aria mi pare anche qui non vorrei dire una cagata poi vabbè questi qui sono i supporti tac e tac e anche qui per le balestre balestre che poi ci saranno gli assali e qui i paraspruzzi i paraspruzzi stavo dicendo i paraspruzzi dietro dopo a livello di dettagli non è dettagliatissimo il telai quindi questo è quanto vediamo un attimino una cosa finale ora siamo messi così diciamo e nient'altro a giorni andrò un pochino avanti dopo magari vi farò vedere come e quanto vado avanti e nei commenti se avete le solite idee impressioni e quant'altro non esitate a dire e a scrivere quello che pensate io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo presto con un prossimo video penso della serie ma comunque ora vedo un po la programmazione e nient'altro al prossimo video ciao ciao